Buonasera a tutti, ragazzi, ragazze, amici, adulti, papà e mamma del relatorio e tutti, tutti, tutti. Mancano pochi giorni alla festa di Orrua, domenica sarà la sua festa, anche se poi si festeggeremo il 27, il 28. Mi trovo qui a Chiaravalle per un momento di riflessione e stare sul luogo di San Francesco e trovarsi nel luogo dell'umiltà, credo che sia stato del tratto caratteristico di Orrua, l'umiltà, cioè non aver timore di voler essere come Don Bosco, nel senso a tutti i costi essere come lui, anche se poi lo è stato, ma affidarsi al Signore perché il Signore lo rendesse un altro Don Bosco. E poi la paura di non lasciarsi prendere dalle capacità di Don Bosco e che magari Orrua non aveva, no? No, lui si è affidato al Signore e quindi è stato un umile. Ho avuto un grande padre come Don Bosco, ma non ho timore di sentirmi né inferiore né superiore, no, perché lui è stato mio padre e ha affrontato tante cose. Non avrò paura di affrontarle come le ha affrontate lui, no? perché il segreto me l'ha insegnato, affidarsi al Signore. Buona preparazione alla festa di Orrua.